24esma edizione del giorno della scorta, questa mattina a Faenza l'annuale appuntamento a livello nazionale dedicato all'approfondimento dei temi relativi alla sicurezza nelle gare ciclistiche, nonché sede di assegnazione del premio sicurezza. Per l'undicesima volta dalla sua ideazione, il gruppo sportivo Progetti Scorta ha deciso di organizzare l'evento a Faenza, segnale dello stretto legame che unisce il territorio Manfredo con il mondo del ciclismo, evidenziato anche dal Citi della Nazionale Davide Cassani, e con i problemi della sicurezza su strada durante le competizioni sportive. Molti gli ospiti questa mattina in una gremita sala del Consiglio all'interno di un convegno che si è concluso con la consegna del premio sicurezza 2015, assegnato quest'anno al professor Giovanni Tredici, specialista in neurologia e medicina dello sport, professore ordinario all'Università Bicocca di Milano. Un premio all'eccellenza italiana in fatto di assistenza sanitaria alle gare ciclistiche di assoluto riferimento internazionale. Presenti questa mattina a Faenza anche alcuni volti noti del mondo ciclistico italiano, l'ex campione olimpico ed ex campione del mondo Silvio Martinello, attuale commentatore Rai, per anni compagno dello stesso Cassani nella squadra giornalistica, il forlivese Matteo Montaguti, il lughese Alan Maragoni e Davide Pozzovivo, oltre al direttore sportivo della Lampre Merida, Orlando Maini. Oltre al professore Tredici sono stati assegnati riconoscimenti anche a Silvio Martinello, ambasciatore della sicurezza, Rinaldo Vincenzi, voto staffetta, alla squadra risordienti della Cotignolese e al campione italiano Corsa Punti, Davide D'Apporto. Contemporaneamente allo svolgimento dei lavori nella sala consigliare, Faenza ha ospitato in Piazza del Popolo uno spaccato dell'impegno delle forze di polizia e delle società ciclistiche operanti sul fronte della sicurezza stradale sportiva, con la presenza dei mezzi della Polizia di Stato, con Pullman Azzurro e Lamborghini, Carabinieri, Polizia Municipale, Polisportiva Zannoni e Società Ciclistica Faentina. Un'occasione speciale per gli invitati al convegno, curiosi e semplici passanti, per ammirare i mezzi messi in campo dalle forze dell'ordine e dalle associazioni dedicate alla scorta, non solo in tema di sicurezza stradale, nell'ambito sportivo. Un salto nel tempo che ha permesso di ammirare veicoli del presente e del passato.